Stai già registrando? Sì Sicuro che stai registrando? Sì, sì, guarda che bella stia che fa qua, guarda è tanto il film, il minimo allora come fai a vederlo? guarda la televisione ooooh adesso la stanza 80 kg eh? adesso la stanza 80 kg poco è filmato, quanto vuoi di più? vediamo nel grosso botto quello che è hai visto anche te la canna com'è rigida? eh? 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 mi ha portato fino alla maggio di notte adesso no no prima di sotto sopra devi dire tu, se no lo parliamo di questo eh? ok 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 è che greva eh? è che greva, se stanno tanto a qui lo vuoi poste Se si spacca mia Fatti vedere almeno la 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 che fa per la pancia e per cui lei è grossa figa una madonna che fa per la pancia mi metti per la pancia l'occa 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 non è 2 metri hai detto che sta inizioso va bene 2 metri si può spacchi la schiena va Ahahahah ho messo fuori prende l'aria la mia mochata non c'è un pollo guarda 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 devi lanciarsi da solo? si si eh, finora non può essere ah, adesso penso ah, non è andato perché sei io che sei in posto? eh che vuole ah, adesso devo farglielo vedere poi lo buttiamo dentro m***a ti ho filmato tutto eh? beh, bravo mi fa svegliere ti ho fatto un bel filmato ma il film ti fai a dubbio eh? ti ho fatto un bel filmato che vuoi metti a fare una strada eh? questo peserà? ah, questo è abbastanza 80 kg non ci sono Grazie